Perchè siamo questi? Nooo, non scherziamo, perchè siamo questi? Ciao ragazzi sono Andrea UTXD e sono con... Sono Chris Gamer E oggi siamo nel terzo episodio di Dead Space E ricordiamo che siamo il terzo capito L'ultima volta ci eravamo fermati qua ai potenziamenti Che alla fine non abbiamo fatto perchè volevamo aspettare E ora penso che dobbiamo andare qua sopra Molto bene Entriamo subito anche se... Che cazzo avevo ancora toccato vabbè Ok salgo su questa specie... Oddio cos'è? Cazzo dove fai? Cazzo... Questa arriva dal soffitto Questo ovunque vai c'è Ma tu voglio staccato la testa E ancora va a casa Guarda come si dimena Un altro, un altro, attenzione, un altro Cazzo Muori... Ma questi non muoiono male... Tagli il braccio... Su... Sai che è male che ti tagli il braccio così tutto secco Perché? Oh eccolo 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 dai vieni Nooo 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 Eh si Muori devi morire proprio Vai 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 Che brutto ma cosa c'è nel posto delle mani degli attivi Ma beccato Ma fa più di brutto Cattivo Cattivo Lo sappiamo Non posso neanche caricarmi di munizioni Abbiamo finito ancora Ma quanti ce ne sono? Quanti disperatori Dai Nooo Nooo Muori No, pure questo Pure questo Madonna ma proprio gli taglia la spalla proprio Beh infatti quanta violenza c'è lì Ok siamo arrivati penso dall'altra parte Ehm Vediamo se adesso abbiamo abbastanza soldi Per poter potenziare l'armatura a livello Quanto costo? Ah madonna Ma perché abbiamo 17.000 se prima avevamo 21.000? Appunto siamo aumentati No no Sono diminuiti Diminuiti No che cazzo è lì Aspetta qua c'è un'ordine Che non serva niente no Cos'è questo cosa c'è qua Ma che cazzo Lo stitolo questo è tutto Su che è lui Alzi le cose Dai muori Madonna Madonna Ma non c'è niente ma cosa ne faccio di sta roba Andiamo via va Ma porca Questo ogni volta che devi andare ti intracciano la strada Madonna Ogni volta eh Oddio io qua questo cos'è qua è una brutta Eccolo Madonna quanto ci scommettevo Vieni qua che cazzo Ma poi viene sempre lui Madonna io Che cazzo Perché diventano carano? Ma mi gusto Ma muori Un po' più o devi morire Non sapevo che entravamo qua e arrivò Ok dai vieni 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 E Billboard Io � respecto Vuole muore pure l'alentatore Anche te Vuole attaccarmi ma non so se ce la fai amico I soldi I soldi Tutti i soldi miei Un altro ma non l'ha finita Guarda guarda Si è vicino piano piano che gli fa male la gamba E mi è vicino piano piano e te lo schiaccio Proprio appestate Gli spiaci la testa Ma non ti sono ancora Sai che ci stanno sparando Allora aspetta aspetta No non l'ho visto Però come gli segue lentamente nel braccio Non ferisce più dolore Guarda si piega dal dolore Guarda si piega un'altra volta Finito Guarda quanto ci metto a morire Oh le amici ci sono finiti Guardalo Ora sparisce Guarda ora sparisce Giro Vado verso la porta Strano Molto strano Oh sono cambiate le pareti Che cazzo è una caverna Che cazzo dove siamo Dai va aspetta Di presti è l'energia dell'ascensore Subito capitano Dovete mandare Tutto noi dobbiamo fare qua Siamo da soli C'è non mi ha andato a morire Di qua di qua di qua C'è una cassa Ho visto una cassa Ho visto una cassa 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 Ok cos'è? Nooo niente soldi Unizioni di palle Noi vogliamo il cash non I colpi Che cavolo Aspetta perché Cos'era? Quando mi arriva uno da una parte Tu non c'erano pure volare così Guarda che No ce ne sono due di seguito E io l'ho matta tutto di un'altra Ma scusa Da dove si mette la cassa Non lo so Dall'adietro Ma sono ripati da qualche parte Non lo so Ma io devo scendere da qua Sì Non so dove sto andando Non so dove sto scendendo Oddio Nooo che inquietante Guarda Poi così al buio Oddio E poi non si vede Non si vede niente perché No 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 La vedo molto brutta Cosa devo fare? Devo Prima mettere una cassa Sicurezza E poi le coste manzioni Dammi soldi Oppure qualcosa per potenziare No Perché si fa ricaro Attento che mi sa che tra poco Arriverà qualcuno Questo buio Ma siamo di sicuro Riva qualcuno Eccolo là Guarda 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 Due No Uno E' che sembra che c'è un figlio dentro Non posso dire Sì che gli esce dalla pancia Solo le braccia Allora Saliamo su L'ascensore è questo Sì Non so perché sono scendendo Dovevo attivare qualcosa Di computer L'ascensore Cos'è Cos'è sta roba? Cos'è? Che cazzo ha il posto del braccio? E' morto Un colpo? Ah forse erano delle bombe Bombe proprio Solti Solti Cash via Cash cash Sei stato utile La tua morte Sarà auto Eccoci qua Alla fine Nell'ascensore E ora Oltieni 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 c'è stato Ai tuoi superiori Ok Quindi siamo in una caverna Penso che si C'erano le pareti di roccia Quindi penso Perché va così a scatti Stava un po' allagando Che cazzo è quello per ferro? Ma che Oh attento Attento Travolo Mi ha maledio Ho rallentato gli altri Oh Mi Cattiveria Proprio Proprio Massima cattiveria Dai Distruggilo Mi sta proprio Guarda quanto è veloce Che carano Ok Oh no Ho fatto conetica Scusate per i lag Non so perché sarà il gioco Perché Ma è chiudo Oh oh Anche quella dietro E' il culo vai aperto Ma va a cagare Ci stava prendendo per il culo E allora Ma vaffanculo Allora io devo andare di là Allora va di l'altra parte No è chiuso Per forza di là Che cazzo succede? Cos'è? Oddio cos'è? Perché siamo questi? No Non scherziamo Perché siamo questi? No Che cazzo succede? Che cazzo sta succedendo? Oddio Se l'ha trasformato Oh cazzo Quindi lui è quella cosa All'interno del suo corpo? No Non lo so che cos'è Non si può andare Con quellosini già frettate Andiamo a vedere Ma andavano Adesso Che cazzo Che palle Che palle Avete rotto le palle Ma non ho molti riempiti i proiettili Non è fai che se si può come azioni Poi sono i più scarsi Oh soldi I corpi per terra Che si possono sollevare Ma me lo porto via Aspetta vediamo se c'è qualcosa altro Di carino Una testa Non c'è niente Noi siamo arrivati da quella porta O dall'altra? Prendiamo questo Ce lo portiamo come di corda? No non mi lasciare Qua ti prego No vieni con me Tu sei il mio compagno di viaggio E spara Cosa spari? Montona Vabbè Stai perdendo la testa Per quello che spara Non posso dipendere Sono sicuro Che spunta qualcosa No 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 Che spunta Che questo qua si sveglia E mi viene addosso Ah no No Strano Molto Sarà messo lì così a caso Mi sembra quello Allora qua è Io di là No Non posso Ok io sono sicuro Che qua si chiude tutto E si riempie di zombie Cioè di quei mostri là Non so cosa sono E ti lasciano Guarda Sono sicuro Che tanto Guarda io adesso Flicco qua E lo lasciano E lo lasciano Qua resta Eccoli là Madonna Proprio prevedibile Proprio Cavolo cavolo solo Sparali Sparali E gli sparo sulla bomba Direttamente No Che fai Che fai Che fai Allora Mitica io ho tagliato Un Che fai Hai visto la bomba colare Che c***o Che c***o Perché mi Mi sta facendo Mia mal di testa Sta luce che fa Così Donna Questa Sparata Dappertutto Ti gira da una parte C'è un'altra checca Come questo Ma quando capiranno Che non possono vincere Penso quando Quando moriranno Così Che fai Ok vieni qua Ne colpi Ne colpi Ne colpi Che c***o Che sto fai Mi ha fatto esplodere la bomba Adosso Perché sparano? Ma non sto sparando Cerco di cliccare quello Possiamo potenziare adesso Oh no 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 Merda E' sopra che sto Adesso però Non posso spiegare Togli Sa di Tonti che esce Bia chi è Do E' che paliglio Di questo Madonna Madonna Sono qua che In tutta la C***o di scheretta Che abbiamo fatto Sì Si piega dal dolore E poi muore Tonti Intanto sta accadendo Ciao Ciao Io me ne vado Intanto Fai con calcio Visto Che ti dicevo Il primo è adesso Guardalo Guardalo Un braccio vuole attaccare Madonna Madonna Io mi chiedo Un altro Ma basta Come ha la forza Di attaccarti Dopo la partita di un arco Forse è perché nervoso Non lo so Ha bevuto troppo caffè Ho troppo coca cola Allora Che devo fare Molto bene Qua ci sono 3000 porte Io penso che Finiamo qua In questo episodio Ci vediamo Al quarto episodio Di Dead Space Da Ciao a tutti Da Andrea Ciao a tutti Da Chris Gamer Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti